Radio Capital, TgZero e questa è la voce inconfondibile di Paola Taverna che quando cantava azzurro del grande Celentano ma Paola Taverna che è il nostro ospite questa sera in diretta buonasera, buonasera Paola Taverna, benvenuta a Radio Capital buonasera, buonasera anche l'entrata musicale beh ma un po' di allegria ci vuole un po' di allegria, azzurro, poi ce l'ha con i giornalisti ero molto allegra quel giorno si andava a Rimini quindi era bellissima giornata alla festa dei 5 Stelle di Rimini e oggi come è il barometro del suo umore, Taverna come è oggi? cosa indica, bello o brutto? ma variabile perché siamo in piena sessione di bilancio quindi nonostante le cose positive che stiamo facendo portando avanti il programma del Movimento 5 Stelle c'è tutta una realtà che è quella della spartizione delle mancette che sono ormai annuali ogni legge di stabilità c'è questa l'assalto alla diligenza che va di qua e di là con un PD quest'anno particolarmente ricattato da Ala che ci ha fatto penare parecchio in commissione bilancio su che cosa per esempio? qualcosa che non le è piaciuta in particolare? ma a parte Ala che sono dei meccanismi più che altro legati a quelle che dovranno essere degli accordi in fase di campagna elettorale quindi di posizionamenti all'interno dei vari listini ci sono situazioni che lasciano un pochino l'amaro in bocca anche quelle sbandierate come 60 milioni al caregiver il falso super ticket che viene tolto ma che in realtà non viene tolto è sempre una questione semantica raccontano molte cose a parole ma poi nei fatti le situazioni sono sempre molto complicate i vari 80 euro torbide, poco chiari e assolutamente non significative per risolvere i problemi della parte più fragile del paese quella bella significativa come le banche che hanno sempre trovato un grande aiuto da questo governo sono rimasti ai margini sempre le persone più fragili quindi questo ci lascia comunque l'amaro in bocca ma senatrice di fronte a un collasso di una banca se quando sarete al governo il 5 Stelle che cosa farà? le lascia cadere? che succede? qual è la vostra idea di? la gestione delle banche ha dei problemi atavici che sicuramente il Movimento 5 Stelle ha dato delle soluzioni che erano da rendere strutturali all'epoca con Monti dei Patti di Piena nonché con tutti quelli che sono stati i vari lasciati ma perché le trova corretto l'inserimento del Belin solo per una banca e poi gli aiuti che vengono dati invece per le altre quindi da una parte pagano i correntisti e dall'altra invece ci pensa il governo queste credo che siano situazioni che vadano riviste alla fonte su come viene concepito il sistema bancario su quelle che devono essere le banche di affari legate alla finanza o quelle che devono essere le banche legate a quelli che sono le esigenze delle persone io vorrei ricordare che per una persona normale quale io ancora continuo ad essere con le quali mi confronto la banca dovrebbe essere un posto sicuro dove mettere i propri risparmi ed eventualmente recarsi per avere un aiuto oggi le banche sono diventate il posto meno sicuro dove mettere i risparmi visto che poi a seconda delle gestioni più o meno dissennate o più o meno vicine ad alcuni componenti del governo risultano essere un posto dove in realtà i risparmi sono spariti quindi quindi è meglio non tenere i soldi in banca se si hanno ma quindi è meglio riformare un attimino le banche o comunque cambiare un governo che delle banche ha fatto un pessimo uso se non aiutare chi aveva dei soldi che doveva dare non glieli ha fatti dare e li ha toglie a chi invece li aveva in banca e che probabilmente ne aveva tutto il diritto ad averli senta visto che siamo in tema di economia e appunto la sessione di bilancio è stata per approvare al Senato insomma verrà approvata la manovra lei su cosa avrebbe puntato invece quei pochi soldi che ci sono magari a disposizione in questa sessione di bilancio su cosa avrebbe messo le risorse? ma io sono in commissione sanità quindi indubbiamente uno dei nostri eventamenti era quello di abolire il super ticket avevamo predisposto una copertura di quasi 600 milioni di euro grazie anche a un intervento su quello che era il settore farmaceutico e che avrebbe comunque riportato un'equità perché oggi un super ticket rappresenta in realtà un minore gettito nelle casse pubbliche perché la gente ha più convenienza ad andare a fare analisi o accertamenti presso i privati che si avvantaggiano del super ticket per fare delle tariffe che in realtà sono diventate concorrenziali quindi uno strumento che doveva servire per riempire le casse pubbliche e garantire la sanità pubblica non ha fatto altro che portare tanti malati a spese proprie nelle strutture private questa era la cosa sulla quale io mi sono battuta a proposito di malati andando purtroppo un passo oltre la malattia lei ha visto cosa ha detto Salvini sul Biotestamento che so che è un tema che le sta a cuore che effetto le ha fatto come c'è rimasta senatrice io non ho se è stato oggi possiamo farglielo sentire possiamo farglielo sentire senatrice perché lo facciamo sentire sono 20 secondi a nostro avviso insomma proprio squalificati però sentiamo più che il fine vita io mi preoccupo della vita a me piacerebbe che questo Parlamento si occupasse degli italiani che stanno vivendo quindi più che di una buona morte su cui ragione merimo di una buona vita che a milioni di italiani purtroppo non è garantita in questo momento però aspettiamo Renzi quando smette di smanettare su Facebook se ci dice di che cosa si occuperà il Senato noi commenteremo quello che farà il Senato insomma ha sentito Taverna Salvini dice noi si occupiamo dei vivi credo che sia un parallelismo vergognoso perché le persone che oggi in qualche maniera hanno riportato con la loro tragedia andiamo male andiamo male ricordiamocelo ecco ricordiamocelo che davanti a dieci anni credo che sia penoso come parallelismo sono delle persone che hanno bisogno della tutela maggiore perché sono in una in una sessione di vita che non sentono più come tale quindi ci stiamo occupando dei vivi che hanno tutta la dignità di accedere ad una morte che sia il più decorosa possibile credo che Salvini abbia fatto uno scivolone di quelli vabbè ma sono abbastanza usuali i scivoloni di Salvini ormai è tutta propaganda quella della Lega ma si può fare questa legge ci sono i numeri per approvarla prima della fine della legislatura? sì noi abbiamo sempre dimostrato di essere fortemente consenzienti a portare questo questo tema alla luce in questa legislatura non abbiamo presentato nessun tipo di emendamento dopo la sua approvazione alla Camera lo abbiamo avuto in Commissione Senato e purtroppo abbiamo dovuto vedere il Presidente della Commissione la Senazione Cerebiasi lasciare il ruolo di relatore pur di vederlo approdare in aula perché c'è stato un forte ossuzionismo da parte della destra che ha presentato qualcosa come 3.000 emendamenti in Commissione quindi voi dire portatelo in aula e lo votiamo in 24 ore assolutamente sì ma non saranno 24 ore saranno 48 si può applicare in questo caso una tagliola che sarebbe più che giustificata considerando che gli emendamenti sono molti di carattere strumentale quindi potrebbe operare come già hanno operato per altri provvedimenti in maniera che questo si possa votare con serenità e dare all'Italia una legge che merita ok senti invece un'altra legge che il PD caldeggia ma difficile sarà approvata è quella dello Ius Soli voi su quelle invece siete più tiepidi giusto? non siete a favore dell'approvazione? ma noi crediamo che sia una legge che il PD sta tentando di cavalcare per dimostrare di essere ancora un partito di sinistra quando di sinistra questa legge ha ben poco se va a cercare una soluzione ad un problema che in realtà è ben alto il problema è quello dell'immigrazione il problema è quello di un trattato di Dublino che mette di nuovo grazie anche al voto favorevole di Forza Italia del Partito Democratico l'Italia è una condizione di grande criticità rispetto a un flusso di immigratoio che ormai è ingestito e incontrollato senatrice senatrice però questi ci sono che ne facciamo? i ragazzi io voglio ricordare che comunque l'Italia è un paese che è già dotato di una legge che è la 91 del 92 che permette di avere la cittadinanza ci sono due modalità differenti e ricordiamo anche che l'Italia è un paese che riconosce i diritti sociali a chiunque dopodiché se il Partito Democratico vuol fingere di fare una norma migliorativa che poi migliorativa non è perché secondo me non lo è nella misura in cui tu non ti confronti con quella che è la fotografia della società attuale è inutile che noi parliamo di situazioni che erano in essere venti anni fa fingendo che oggi la situazione non è completamente differente e che non ci confrontiamo in un ambito differente che è quello europeo perché quando tu fai un trattato di Dublino che vede l'Italia diventare una gabbia per tutti i migranti economici per tutti i migranti pericolosi allora mi devi spiegare con quale criterio tu proponi un Ussoli che apre le maglie non solo a chi oggi ne ha giustamente diritto ma ripeto i meccanismi per avere la cittadinanza in Italia ci sono anche dopo dieci anni di una permanenza legale sul territorio con richiesta al Presidente della Repubblica o dopo diciotto anni si è senato in Italia se lo fai senza guardare che cosa sta accadendo in realtà è propaganda la spizzola ma non risolve nessun problema neanche chi ne ha diritto neanche chi in Italia non ci dovrebbe stare no 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 è chiarissimo è chiarissimo è chiaro che siete contrari a questa legge l'ha detto è la motiva lo sta motivando senta Paolo Taverna a proposito di torniamo per un attimo sulla sanità e parliamo per un momento di vaccini poniamo che voi vincerete le elezioni l'anno prossimo sareste orientati in qualche modo a modificare questo decreto sull'ubiliarità dei vaccini a scuola ma io abbiamo fatto un grande lavoro parlamentare e molte volte è stato travisato se non strumentalizzata la nostra posizione che non ci vedeva concordi con quelli che sono stati gli strumenti per affrontare anche un problema che c'è che è quello del callo delle coperture vaccinali io sono dell'opinione che continuare a trattare gli italiani come delle pecore che devono trattare delle imposizioni sia la misura più errata di una popolazione e per renderla consapevole dell'importanza della vaccinazione ha creato una spaccatura che ha reso coloro che erano scettici completamente contrari ha creato una sorta di divisione all'interno dei pressi scolastici che tu sei vaccinato e tu non lo sei questa non era la maniera di operare è una legge che doveva tornereste indietro in questo caso credo che sia rispettoso degli italiani dare la giusta informazione ed operare con dei metodi che sono quelli della raccomandazione validi in tutta Europa e non dell'obbligo l'obbligo non è una maniera che a me piace per rispondere il problema prego cioè secondo lei prima di questa legge la gente non era informata su cosa sono i vaccini cioè la gente non sapeva cosa fossero i vaccini perché quante campagne di sensibilizzazione sulla vaccinazione sul problema del calo vaccinale sono state fatte in Italia prima di imporre un decreto che inserisce obbligatori dieci vaccini mi scusi il decreto è stato imposto perché era diminuita la diffusione del vaccino il decreto è stato imposto perché ci sono state delle politiche sanitarie completamente fallimentari che hanno portato la popolazione ad avere la sensazione che i vaccini fossero una cosa ormai non più indispensabile se si facevano campagne informative e se si rendeva la popolazione edotta di quello che stava accadendo probabilmente molti genitori che oggi vanno perché obbligati sarebbero andati comunque ma non si sarebbe creata la frattura e non si sarebbe dovuto avere così poca sensibilità nei confronti di coloro che sono resistenti perché dobbiamo continuare a trattare gli italiani come delle persone che debbono subire piuttosto che comprendere io questa è una cosa che non accetto forse perché non vogliono comprendere forse perché non vogliono comprendere ma cosa vuol dire non vogliono comprendere ma se le persone sono informate correttamente io non credo che ci sia nessuno che non voglia o non sia in grado di comprendere credo che ci siano state delle politiche assolutamente fallimentari un lattismo e una distanza da quelli che erano anche le problematiche italiane che hanno poi costretto il ministero a imporre un decreto ma questo è lesivo a mio avviso proprio del rapporto che dovrebbe esserci tra istituzioni e cittadino quando noi diciamo la sensibilizzazione è un'altra cosa se è un'altra cosa torniamo alla situazione precedente senta lei si candiderà alla prossima legislatura non torniamo alla situazione precedente mi perdo io su questa cosa voglio essere chiara io continuo a sostenere che gli italiani informati fanno delle scelte giuste che non sono necessariamente quelle che vogliono in qualche maniera far credere ossia che siamo dei pazzi e che smettiamo tutti di vaccinare io mio figlio l'ho vaccinato per tutte le patologie a prescindere se ci fosse un obbligo o meno sono una mamma me ne sono assunta le responsabilità mi sono informata con il mio pediatra ho fatto un percorso che fosse condiviso e compreso grazie all'assistenza e all'aiuto di persone informate ma non vedo perché dobbiamo considerare gli altri dei cretini perché hanno delle delle paure delle sensibilità li vogliamo aiutare vogliamo vogliamo tranquillizzarli o qui in Italia funziona che te lo devo imporre quindi lei pensa lei pensa senatrice che chi non faceva vaccinare i figli si comportava così per mancanza di informazioni questa è la sua conclusione io ho conosciuto molte persone che avevano delle titubanze dovute alle loro situazioni personali che probabilmente si è aiutati compresi con dei percorsi anche personalizzati rispetto al bambino perché può esserci anche una famiglia o un bambino leggermente più fragile dove si può aspettare un mese di più piuttosto che imporre in una determinata maniera in determinati tempi tutta una serie di vaccinazioni perché questo non si può fare è così astruso non si può raggiungere a un aumento delle coperture vaccinali con un confronto e con un'informazione no questo è il paese dell'obbligo se è obbligo così lo fai io mi sono tolto un problema per noi non funziona così è chiaro senta senatrice Tavena lei ha intenzione di ricandidarsi alla prossima legislatura? sì vediamo sì penso di ricandidarmi e di portare avanti un meraviglioso lavoro che stiamo facendo in sanità che ha dato dei grandi risultati abbiamo fatto approvare una legge che cambia veramente le cose che è quella sugli streaming neonatali che si occupano dei malati rari altra parte fragile del paese dimenticata quindi perché no se possiamo essere utili lei ha fatto un percorso di qualche anno insieme a Alessandro Di Battista abbiamo visto tante volte sui palchi nei comizi nelle vostre attività politiche come era agito quando ha saputo intanto Di Battista gliel'aveva detto qualcosa prima di questa sua decisione di non candidarsi più lei come l'ha vissuta questa cosa? Alessandro lo dice da un po' di tempo inizialmente pensavamo che fosse una decisione che poteva cambiare poi è nato Andrea quindi è stata invece una decisione che ha preso sempre più corpo io gli auguro ogni bene ma sono sicura che continuerà a fare politica perché l'obiettivo non cambia o dentro o fuori palazzi c'è voglia di una rivoluzione culturale che può accadere nelle istituzioni o può accadere nelle piazze quindi bene che Alessandro si dedichi anche nella maniera che più le consula che è quello di creare empatia con le persone non necessariamente dentro il palazzo io quando l'ascolto sanatrice io provo un'irresistibile simpatia per lei io non ho particolari simpatie per il 5 stelle forse lo sa lei mi è simpaticissima non capisco perché non la mandano di più in televisione ma io sono un po' ristia allo schermo non è un preferisco una chiacchierata radiofonica che ci consente di argomentare con più precisione la televisione ha dei tempi molto stretti ha dei contesti sempre un po' di confronto dove in realtà tutti la sua un po' spettacolarizzati a mio avviso non danno il giusto onore anche agli argomenti importanti dei quali le persone dovrebbero interessarsi e che noi abbiamo voglia di di trasmettere questa era infatti l'idea iniziale di Grillo e di Casaleggio però poi i leader di 5 stelle sono continuamente in televisione è cambiato qualcosa lì no 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 abbiamo abbiamo distribuito le energie in maniera che che il nostro messaggio anche attraverso gli strumenti che purtroppo sono ancora imperanti in quella che è la comunicazione fossero funzionali a trasmettere il nostro messaggio io preferisco ecco una chiacchierata radiofonica o un post su facebook o una bella piazza dove di solito mi mi trovo molto bene lo sentiamo lo sentiamo lo sentiamo siamo quasi in chiusura senatrice taverna un'ultima domanda da parte mia che riguarda la candidatura per la regione Lazio di Pirozzi sindaco di Amatrice ovviamente voi siete avversari perché avete già la vostra candidata che è Roberta Lombardi come giudica il fatto che insomma il sindaco di Amatrice si butti in questa avventura a molti può apparire magari distraente rispetto ai gravissimi problemi che può avere il suo comune posso dirle che sono molto felice che la nostra candidata sia Roberta Lombardi non ho particolari interesse per gli altri competitor ognuno fa delle diplomatiche al massimo politiche che poi spiegherà ai propri elettori un'ultima domanda sulla questione delle molestie ha visto Asia Argento Weinstein così cos'ha lei cosa pensa di tutte queste è un bene che siano venute fuori tutti questi racconti per ora un po' limitati al mondo dello spettacolo dobbiamo dirlo di questo tipo oppure pensa che ci sia tanta panna ammontata in tutta questa vicenda no ascolti io sono in commissione femminicidio e il tema della donna è un tema che merita un grandissimo rispetto se ci sono donne che hanno voluto denunciare io ho il massimo rispetto per chi denuncia ma posso dire che stiamo davanti a un problema che in un paese che vuole definire si civile fuori dalla violenza legata in quel settore in quel ramo in questo momento così spettacolarizzato anche di tutto quello che sta accadendo è in realtà un problema drammatico che vede colpita una quantità di donne incredibile e che purtroppo non ha la giusta attenzione da parte delle istituzioni ci stiamo battendo molto su questo quindi denunciare 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 è giusto denunciare sì sì denunciare denunciare sempre però ha visto ha visto senatrice al processo di Firenze quelle due ragazze americane non conosciamo la sentenza naturalmente ha visto come sono subito additate loro come ha quelle che ci stavano quelle che li hanno attirati alla fine chi denuncia diventa versaglio diventa l'imputata eh questo forse è una domanda che dobbiamo porci tutti come è possibile che nel 2017 chi denuncia fuori da quella che sarà poi eh la sentenza che nella quale non metto bocca però è assurdo immaginare che ancora ma io qui in Parlamento ho colleghi eh che hanno detto che in fondo una donna che va in gira alle tre di notte se ha un vestito un po' succinto eh d'altronde provoca quelle che sono delle eh reazioni animalesche che sono proprie dell'uomo quindi non mi eh non tutti non tutti non tutti sì lo so ma era un parlamentare eh lo dico loro quindi questa cosa mi inquieta parecchio e mi rattrista che possa essere ancora un pensiero comune a degli italiani però è un problema che dobbiamo affrontare insieme agli uomini la voglio salutare lei Abba adesso si considera una politica o continua a dire io non so politica come dissino la famosa eh posso dirle che dopo cinque anni ho ho imparato che la politica è un'arte ehm molto importante da mettere a totale disposizione dei cittadini quindi sono un cittadino prestato alla politica se riesco a farla bene ne sono felice anche un po' ce lo dica io so politica ce lo dica io so politica era io non so politico eh me lo tolga io so politico grazie Paola Taverna alla prossima grazie buona fortuna togliamo tra pochissimo grazie